Un arsenale pronto per essere usato, tre Kalashnikov, un fucile a pompa ed un fucile mitragliatore che spara proiettili in grado di perforare auto corazzate, sarebbero serviti per realizzare un attentato nei confronti di un magistrato. E' questa l'ipotesi degli inquirenti dopo il ritrovamento delle armi in un'abitazione di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, nascosta dietro un'intercapedine ricavata in un muro, nella casa del pregiudicato Nicola Pagano, finito in manette. Le armi 2AK47, un fucile mitragliatore Breda, un Mi3M91, un munito di silenziatore, un fucile calibro 12 con canne mozzate e numerose munizioni di valio calibro, sono state scoperte dalla polizia in via Bembo, dagli agenti della mobile Casertana, diretta dal vicequestore aggiunto Angelo Morabito, in collaborazione con il distaccamento di Casal di Principe, diretto dal vicequestore Tocco. Le armi erano state sistemate in un borsone e, secondo la polizia, erano pronte per essere usate. Gli agenti della squadra mobile IPM della DDA stanno ora accertando a cosa servissero le armi. Il sospetto è proprio che, come hanno raccontato diversi collaboratori di giustizia e fucili, e in particolare quello che spara proiettile perforanti, dovessero servire per un attentato ai danni di magistrati. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di perquisizioni, finalizzata la gattura di latitanti del clan dei Casalesi, in particolare del gruppo, che fa capo a Michele Zagariusi.